Il casino di Sanremo è uno dei temi forti nell'agenda politica sanremese. In questi giorni ci sono state diverse riunioni tra le organizzazioni sindacali, il comune e ne parliamo oggi con un ospite in studio, Massimiliano Moroni, consigliere comunale del PDL di Sanremo e dipendente della Casa Raggioco, quindi conosce perfettamente l'argomento. Benvenuto Moroni, c'è stato anche un incontro tra lei e altri due consiglieri comunali, Balestra e Gugliotta, con il sindaco di Sanremo Maurizio Zoccalato, avete espresso la vostra posizione che vi vede in qualche maniera contrari su certe strategie che sono state annunciate, in particolare cos'è che non vi convince? Non ci convince, innanzitutto abbiamo chiesto in questo incontro rispetto per il ruolo sia dei consiglieri, ma come dipendenti, perché non piace a nessuno essere messo alla Berlina davanti all'opinione pubblica in maniera furbesca, senza portare un discorso costruttivo, quindi noi abbiamo detto innanzitutto rispetto, cambiare rapporto quando si parla di Casinò, non metterci la città contro, perché ripeto che i dipendenti hanno contribuito a dare a questa città negli ultimi 20 anni 886 milioni di Euro, quindi bisogna un attimino avere rispetto per quelli che hanno prodotto qualcosa. Detto ciò, abbiamo detto, le misure che il CDA vuole fare, vuole porre in essere per salvaguardare l'azienda, non sono misure che riteniamo efficaci per salvaguardare. Per esempio? Per esempio, quello di investire ancora nel mercato delle slot, secondo me le slot che rappresentavano negli anni 80, l'elemento innovativo di tirare su soldi per mettere in salvaguarda la sicurezza dell'azienda e dare l'infa vitale ai casi del comune, è cambiando il mondo, oggigiorno io vedo che bisogna spostarsi sull'online, perché questo è ciclo il gioco, e non è vero che il gioco sia in crisi, e in crisi il management che non è capace di intercettare flussi turistici, portare gente al Casinò, perché il problema è tutto quello, e noi assistiamo un CDA che sta parlando, a vari CDA che parlano da 4 anni a questa parte, di tutto forché di gioco, cioè il fulcro essenziale di ogni attività del Casinò, il gioco. Noi parliamo di collateralità che non porta a nulla, lo dimostra il fatto che le attività produttive, cioè il know-how di ogni Casinò, sono gli impiegati e sono un numero minore rispetto al carrozzone che si è creato negli anni. Ecco, ora questo, se tu depotenzi il gioco, che è l'entrata, non riesci più a coprire i ricorsi di gestione, ed è quello che sta avvenendo. E quindi gioco online, in particolare questo è il futuro. Perché si era partiti dal gioco tradizionale, poi si era arrivati alle slot, che erano quelle che fruttavano, e stanno ancora fruttando, insomma, rispetto al gioco tradizionale. Diciamo che le slot, anche lì ci si era per un capitolo, le perplessità sono state proprio queste. Noi abbiamo detto, chi gestisce le slot in questo momento vede sistematicamente o meno 20 o un 30%, perché ormai è impari, sono in ogni angolo di ogni città. Quello fatto. Quindi l'elemento innovativo si chiama online, bisogna andare su quel filone lì, ma bisogna circondarsi dei maggiori esperti. Noi oggi abbiamo un online che in 12 mesi, con persone strapagate, perché la gente deve sapere che prendono, quelli sono i veri privilegiati, hanno l'auto blu, hanno le spese mediche, hanno tutto e hanno prodotto un meno 22%. Chi sono questi? I dirigenti? Questi sono i dirigenti, i responsabili di quel settore. Questi non vengono messi in discussione, vengono difesi a sparatratta delle scelte, che sono scelte negative sotto gli occhi di tutti, tangibili, quindi non è un'interpretazione che do io, è proprio la realtà dei fatti. Noi chiediamo, sacrifici li facciamo, ma vogliamo circondarci dell'eccellenza dei settori, visto che gli altri casi no, perdono, sono in crisi, ma riescono a colmare il gap con l'efficienza del manageriale, cosa che noi non abbiamo in questo casino. Tutto qui, il problema è circondarsi dei migliori e ripristinare l'online e anche i giochi tradizionali, che non è vero che sono in crisi nostre. Noi abbiamo una clientela tipicamente votata al gioco tradizionale, il famoso roulette francese, ma per far ciò che si inverte la tendenza, bisogna fare solo una cosa semplice, portare gente e rendere più accattivante il gioco tradizionale, per esempio l'introduzione di jackpot, di gare. Invece questo non viene preso in considerazione, nonostante da molti dipendenti, più che sindacalisti, venga detto questa cosa qua. Quindi ci sono margini per far sì che il gioco riprenda. La nostra clientela è una clientela che al pomeriggio gioca prettamente all'orlette francese, eppure non si va incontro alle esigenze, si investe in... Perché, secondo voi? Perché c'è un disegno ben preciso, perché noi paghiamo esattamente milioni di euro per delle macchine, sdotto machine, e qualcuno viene a spiegare perché invece non le prendiamo incomodate all'uso, che costerebbero un terzo. Perché noi abbiamo dei magazzini che paghiamo di deposito, che sono abbandonate. Potremmo per esempio pensare di esportare le macchinette, le casino di Sanremo, che sono lì abbandonate, che hanno un costo, in tutto il territorio. L'Iguro decomunica, prendeva le famose quote antireparto. Ma sono soluzioni. Dovremmo noi parlare solo di gioco, invece di casino, in maniera populista parliamo di quanto prendono i dipendenti. E su questo bisogna, prima parentesi, bisogna ricordare, i cittadini non lo sanno, che noi abbiamo già dato, sotto il punto di vista economico, il sacrificio, abbiamo già perso il 5% del nostro valore. E siccome non sono cifre quelle che escono sul giornale, che tutti guadagnano quelle cifre, non è vero. Quindi abbiamo già chiuso un contratto senza chiedere un euro, ce ne guardiamo bene, al momento lo capiamo, per rispetto anche degli altri lavoratori in giro per il mondo. Però non possiamo essere solo noi che paghiamo la casa quando abbiamo dato 886 milioni di euro in vent'anni. Il problema della casino S.P.A. è un problema atavico. Nasce quando si costituisce una società. Una società che non ha capitale, una società che vede occupare le poltrone, vede muoversi in rotazione all'interno della stessa casa da gioco, mettendo persone di ogni parte politica. E questi sono i risultati. Quindi quale dovrebbe essere la gestione? La gestione, io do una ricetta molto semplice. La S.P.A. deve dare 5 milioni all'anno di tasse al comune. Se noi azzeriamo, mandiamo a casa la S.P.A. in due secondi, noi abbiamo risparmiato 5 milioni. Siccome l'Italico vuole fare il C.D.A. sono di 3 milioni, io ne faccio due in più subito. E che gestisce? Gestione diretta del comune. Semplicemente. Nomina un dirigente e si gestisce direttamente così. Nominerà un amministratore delegato. Una persona, non c'è bisogno di un carrozzone. Dopodiché noi siamo disposti a fare la nostra parte intesa, ma i sacrifici che chiede i lavoratori devono essere abbinati a una logica di rilancio. Parliamo del taglio di stipendio. Sì, paventato da stipendio. Ripeto, l'abbiamo già perso. Io faccio parte in una categoria che per certi versi è vituperata, però è una categoria che fa lavoro onestamente, non ha niente da recriminare, fa lavoro onestamente. Le paghe sono basse rispetto alla media di quelli dipendenti del casino perché viviamo di mance. Le mance sono croate del 40-50% negli ultimi dieci anni. Le rate dei mutui, il tenere vita delle famiglie, come tutti, non aumenta. Quindi io ho già dato da quel punto di vista. Qualcuno che guadagna bene c'è. Questi sono i vecchi contratti? I vecchi contratti. Noi abbiamo adesso quattro tipologie di contratti. Abbiamo persone che fanno dipendenti, che fanno lo stesso lavoro, ma per quattro realtà diverse. Quindi io vorrei tranquillizzare anche i cittadini che vedono nel casino la possibilità di dare curriculum a destra manca, a politici, eccetera. Non date curriculum perché oggigiorno se uno entra al casino guadagna 800 euro, come fuori? Questo è quello che avviene. E chi dice il contrario dice cose non vere. C'è ancora questo passaggio di curriculum con i politici? Sicuramente. Basta pensare in questi giorni, io sulla rubrica del sindaco, vedo persone che parlano peste corna di tutti i dipendenti, gli additano come ladri, sanguisughe, raccomandati, gente che ha pagato per entrare. E su questo penalmente verranno perseguiti perché come dipendenti, come dipendenti, parla uno che ha vinto una causa per entrare, che faceva le pulizie, che erano i famosi 1200 extra che giravano in tutto il cinema negli anni 80. Quindi ho rinunciato ai quattro anni, ho fatto il part time come tutti e sono entrato pulendo i gabinetti. Perché quello si faceva a fine settimana, poi stavo al bar. Non è che tutti sono così. Se qualcuno si lancia in accuse pesanti, vada in magistratura e dica, tizio Cagli ha pagato, deve suffragare con le prove se non è calugna. Quindi, io ripeto, non so se qualcuno ha pagato. Io non sono a conoscenza. Se qualcuno lo sa, vada nelle sedi istituzionali opportune e denunci questa cosa qua. Tornando al curriculum, potrei fare una battuta, visto che mi sembra che siamo già in campagna elettorale. Mandatemi il curriculum, vi troverò anch'io un milione di posti di lavoro al casino. Visto che su Facebook criticano noi, poi dicono posso darle il sindaco, posso darle il curriculum, va bene, faccia pure, ma stiamo scherzando. E il rapporto col sindaco sul tema del casino? Diciamo che non è ottimale tra di voi. Ma non è vero che non sia ottimale. Io ho il mio carattere, ho una testa, a volte dico le cose giuste, a volte no, come tutti gli esseri umani. Sono in una logica di gruppo, ma nel gruppo io non voglio distinguere come solista, ma non posso neanche diventare una pecora che alza la mano, soprattutto quando vede che certe scelte portano in una direzione negativa ed è sotto gli occhi di tutti, allora chiedo sprono, motivo, il sindaco e gli altri consiglieri, attenzione, sentite anche questo pensiero. Poi è chiaro che ci sia uno scontro, una dialetica, ma anzi, chi rischia fra i due ovviamente sono io, che sono quello che ha meno peso, ovviamente, che sono consigliere, sono dipendente, eccetera. La politica costa, la politica non è per tutti. A me la campagna elettorale costata 550 euro, questo, e sono rimasto fuori per 7 voti, 10 mesi e poi sono entrato. Per fare politica a livello regionale, il sindaco bisogna avere dei soldi e non tutti sono fortunati ad avere i soldi. Io infatti sono contrario, ho anche una proposta provocatoria che ha fatto il sindaco, perché io glielo ho anche manifestato, perché quando lui dice che mi tolgo il 10-20% la mia indennità di sindaco, dice una cosa non vera, cioè io capisco che di modo oggi vada a fare il grillino, ma se io sono coerente e mi guardo e mi piace guardarmi allo specchio, perché sono anche manese, fra l'altro, e dico, io, la mia addirittura morale è questa, io il primo giorno che entro in consiglio, io non prendo lo stipendio e sono più coerente che farlo in un momento di trattativa, dicendo io mi tolgo il 10% di un'indennità, che il suo stipendio di sindaco è un'indennità, perché lui vive di altro, la mia indennità come consigliere comunale è di 11 ore e 50 nette a consiglio, io lo posso devolvere a chiunque, quando si fa la beneficenza, se ho il buon gusto non dirlo, se la si fa la beneficenza, però io vivo di stipendio. Quindi può rinunciare al 100%? Ma certo, anzi, ci sono più quelli che uno ci rimette in telefonato, in presenza di benzina che quello che è, ma la politica è passione e si può fare a costo zero, io non ho fatto una cena, non ho fatto un rinfresco, perché non me lo potevo permettere? E devo dirlo anche, io non ho pagato neanche il contributo che il partito chiedeva ai consiglieri, perché io non avevo i soldi, ma non c'è mica da sentirsi dipendente di serie A, di serie B, oppure consigliere, io reputo che la politica sia fatta di passione, bisogna dare esempio, ho dichiarato pubblicamente che io sono disposto a rinunciare a 100 euro, pensate, la media, dicevo prima, di stipendio di croupier, io ho perso questo mese 700 euro rispetto all'anno scorso, cosa mi cambiano a me? Certo, mi danno un po' un'arrabbiatura come tutti, vorrà dire che non pagherò lezioni di tennis a mia figlia, vorrà dire che non farò la soggiorno estiva, non andrò in vacanza, ma come tutte le famiglie. Un croupier medio, quanto guadagna oggi? Dipende, un croupier medio guadagna lavorando di notte, di notte, per questo mi ricordo, 360 giorni l'anno, perché comunque è sempre aperto il casino, innanzitutto il croupier non ha gli straordinari, non ha gli straordinari perché non ne fa, quindi quando noi ci fremiamo con la mezz'ora in più lo facciamo perché c'è gioco, c'è il cliente che merita. I contratti valgono, nell'arco degli anni, ognuno ha un percorso, ha famosa persona, cioè delle parti di contratti, che hanno delle percentuali, che vanno da 1000 fino a 250 euro, gli ultimi assunti non ce l'hanno, in più facendo le notte in denità varie, io arrivo, e lo dico, sono consigliere comunale, devo dare l'esempio, non rubo nulla io, 1980 euro, a seconda se faccio la doppia, cioè l'orario spezzato. Cioè tutto compreso? Tutto, 1980, poi c'è la parte delle mance, che le mance essendo aleatorie, la gente deve sapere che, visto che io mi sento, ma io lo faccio anche pubblicamente, non ho problemi io, è tutto dichiarato, sono dipendente, quindi, le mance, metà delle mance vanno alla Casino SPA, quindi al Comune. Il Monte Mance, con il FF, eccetera, lo scorso anno, ogni singolo croupier, adatto alla Casino SPA, quindi al Comune, 26 mila euro. Quindi, se io costo 58 mila, devo togliere, però 28 mila che produco. E allora, costo come un dipendente fuori della COP, per dire, costo come quelli della COP, visto che c'è un paragonante che sia la COP, o dell'Aimee. Anzi, se non facessi le notte, la mia paga sarebbe di 1.400 euro. Ve lo dico perché, perché mi sono operato, ho crociato ai minili, sono stato un mese a casa, perché non potevo lavorare, io prendevo lo stipino di 1.400 euro, come fuori. Quindi, io non vedo altri che hanno, invece, altre persone, premi più alti, ma perché sono entrati negli anni, negli anni... I primi contratti. I primi contratti, è normale, mica posso fare una colpa a loro, e neanche sentirsi sporchi. Ma io guardo, poi invece, girando Sanremo, la patrimoniale spiccia che faccio così. Io vedo gente che guadagna 1.000 euro al mese, ha dei macchinoni, va tre volte a sciare su Facebook, perché come è su Facebook? Si vede la vita di tutti. Va a sciare, guadagna 1.000 euro, poi si lamenta dei croupier. Sono loro che devono spiegare come fanno, ma di tutti. Vogliamo parlare anche di quello che io mi sento dire come dipendente, davanti a mia figlia, a mia figlia e tutto quanto, a mia moglie, che tra l'altro mia moglie mi ha conosciuto, lei viene da fuori, quindi non pensavo che fosse questa realtà il casino. Tutti, ah, si è fortunato, passiamo per ladri, passate nel termine fancazzisti, ultra raccomandati, gente appestata, ma per cosa? Mia figlia tutte le volte io ho smesso, guarda, io dico una cosa, c'è un bar di Sanremo, un bar centralista, una via pedonale, che io ho smesso di andare a prendere anche il caffè, per principio, e tanti miei colleghi non comprano più a Sanremo, per questo motivo, noi, ma veramente, noi compriamo online, compriamo fuori Sanremo. Perché vi siete visti male? Perché siamo visti male, siamo additati, dicevo, c'è questo bar del centro, dove ogni giorno c'è scritto, fatevi solo i problemi dei dipendenti, dai gruppieri del casino, ma io posso accettare che un commerciante rinunci ai soldi dei miei colleghi, per farmi, vado a prendere il caffè, mi devo sentire offeso, offeso, manco i peggiori mafiosi sono considerati così. Allora, io lo dico, la clientela del casino, in passato, negli anni 70, erano quelli del prezzo e turatello, di questa gente qua, i malavitosi, io sono cresciuto con quei soldi, ma mi devo sentire sporco, se danno la mancia. Era anche un modo per far rientrare nello Stato, nella parte pubblica, certi fondi neri, diciamolo, perché in passato era così, insomma, per accettare dei soldi della malavita, per riportarli nella parte pubblica, nella legalità, per il bene della comunità. Ma questo era l'intento iniziale. Certo, ci sono stati anche i miei colleghi che hanno sbagliato in passato, ma come in tutti i reparti, in tutti i lavori, in tutta la vita, io tengo, lei è giornalista, tengo il telegiornale, le coppie di ogni giornale, la segna stampa, ho la fortuna di fare questo da tanti anni, e negli ultimi dieci anni hanno arrestato commercianti, avvocati, magistrati, commercialisti, di tutto hanno arrestato, operai, e io devo sentirmi sotto processo perennemente, o avere una città contro, quando statisticamente i gruppi arrestati sono 0,005, ma siamo impazziti. Ha rovinato un po' l'immagine di tutti. Ma tutto ha rovinato, allora ha rovinato anche l'immagine d'Italia, ma non è il gruppi dipendente il problema Sanremo. Il sindaco, quando io ho gli sconti, dico, caro sindaco, io ho chiesto che fare politica, vuol dire dare risposte, creare i presupposti perché i gruppi imprenditoriali vengano a investire, diano occupazione, diano qualcosa, invece noi abbiamo un'occupazione fatta di tanti franchises, di tanti supermercati, che prendono i soldi e li portano via. Il gruppo Norricone, le Clerc, la Coop, portano via i soldi, danno due soldi ai commercianti quando aprono. Vabbè, quello è un discorso diverso, sono grandi distribuzioni. Ma io politico, devo dare risposte ai miei cittadini, devo risolvere i problemi, non basta fare una piazza. In questi scontri è fantapolitica pensare che se i rapporti rimanessero difficili, anzi, se la situazione degenerasse, magari lei e qualche suo collega possa uscire dal PDL o dalla maggioranza. È fantapolitica o è una cosa che potrebbe anche essere? No, no, in questi giorni, io quando sono andato l'altro ieri all'incontro col sindaco, proprio sono entrato per andarmene. Poi ho detto, abbiamo affrontato la discussione, sono state fatte, non dico, ognuno ha le proprie corti, ha detto, adesso io ti giudico nei fatti, ma non è fantapolitica. Io ho sposato mia moglie, ho sposato l'amministrazione, posso stare anche a casa se non mi riconosco più in un progetto. Non ho questa bell'età di fare politica, andare al Parlamento, andare là, prima perché non ho i mezzi, e secondo perché a me piace fare politica dove vivo, nella mia città, mettermi in discussione. Io ho sempre fatto, sono partito dalla gaveta, la circoscrizione, prima ancora faccio la presidenza dell'istituto superiore, ho fatto, mi piaceva la passione, la vera politica che va adesso di moda, è la politica di fare il piacere, il favore del problema alle persone, i cittadini che ti votano. Questo è fare politica. La sua posizione in maggioranza è subiudice, possiamo dire, in questo momento. Non lo so se sia a questo quale, dipende. Cioè valuterà nel corso dei prossimi fassi. Sicuramente, ma devo dire che in questo ho trovato nel mio percorso altri consiglieri che la pensano come me. Quindi io non ho nulla da perdere, ripeto, la mia campagna è costata 550, ho già recuperato i suoi quei consigli comunali, la fatica in due anni, però l'ho già recuperato. Non ho problemi io, io voglio delle risposte, io ho dato la mia faccia, ho dato i voti, ho dato tutto quello che potevo in questi anni per il partito. E ho trovato poi nel percorso come, perché prima io in Forza Italia del sindaco, cioè, mi sono stato messo un po' fuori, additato, mi sono state operazioni, ma io sono passato su tutto, l'importante era il bene comune, era la città, e nello scelto specifico in questo momento qua, il consiglio. E questo non la trova la solidarietà da tanti miei colleghi. non la trovo. E questo, io quindi continuo a essere da sprova per la mia maggioranza. Non la trovo io questa solidarietà. L'altro giorno, quando in consiglio comunale è stata dichiarata la vostra incompatibilità, secondo alcuni pareri della prefettura, a rimanere in aula per parlare di Casinò, lei ha detto, d'ora in poi, guarderò con grande attenzione che non ci siano presunte incompatibilità anche con altre categorie di colleghi consiglieri comunali. E' sempre di quell'ipotesi? Già domani che è prevista una salute a consigliare se si parteciperà, se ci sarà numero legale, io ho già preparato la stessa cosa. Io l'ho detto pubblicamente e ho il brutto vizio che quello che dico cerco di mantenerlo fino in fondo, finché non mi chiudono la bocca. E quello è stato un tentativo di chiudere la bocca a me e altri tre colleghi del consiglio comunale. Perché noi in passato abbiamo votato tutto e andava bene così per tutti. Per tutti andava bene. La mia preoccupazione che esprimerò al consigliere è che se qualcuno parlerà di floricoltura, i signori bianchieri e i signori del sole devono uscire perché sono floricoltori. Sono coloro che sono votati 500 mila euro di sgravi per i terreni agricoli. Io non ho il terreno agricolo. Allora, se vale per me deve valere per tutti. E quindi quando parliamo di commercio tutti i commercianti devono uscire. Quando parliamo di sanità i dottori devono uscire, parliamo di tribunale gli avvocati devono uscire. Non rimane nessuno in consiglio perché se vale per il dipendente del casino, cercano un tentativo maldestro e non riuscito anzi fallito miseramente è ridimensionato magari chi pensava di fare l'ago della bilancia e questo è riferimento probabilmente voluto al presidente Lupi che ha innescato un meccanismo che da domani non usciamo più in quel consiglio perché come ha sollevato l'eventuale incompatibilità che non esiste fra l'altro. Io poi sono andato a parlare in prefettura mi hanno detto lei poteva partecipare a qualsiasi discussione poeticamente lei deve trovare corretto se rimanere o non rimanere avevamo già annunciato che siamo usciti certo avevamo già annunciato questo non abbiamo bisogno che ci dica il signor Lupi come funziona piuttosto Lupi deve dire come mai tanti anni che fa politica dove sono finiti questi 886 milioni di euro se come amministrazione non è riuscita a incidere per creare che ne so un palazzetto dello sport questo è quello che io chiedo ai vecchi politici all'assessore Berrino a quelli a Soleri a quelli che sono lì da 20 anni chiedo queste cose qua torniamo al casino mi dica dove sono gli sprechi mi ha già detto le macchinette che possono essere in un modo dato noi abbiamo guardi anche per i spettatori noi possiamo se togliamo gli sprechi a me mi spiace dire ma se inneschiamo un meccanismo io non posso non parlare di queste cose cioè noi vogliamo fare la lotta agli sprechi e nel momento che il casino incassa almeno 22% rischia la chiusura continuiamo a chiamare gli interinali i somministrati cioè dichiariamo sui giornali il CDI dichiara c'è un esubero di 70 posti e continuiamo a assumere persone esterne pagandoli 27 euro all'ora ma delle cose allucinanti di cosa parliamo qua gli sprechi sono questi le terzionalizzazioni nascono per risparmiare perché il personale interno c'è? di che cosa dico? per coprire i servizi è certo che ci sono noi abbiamo già detto in riunione che siamo disposti noi a fare certe operazioni di mansione per risparmiare i soldi siamo disposti a farlo noi gli sprechi sono tutte queste terzionalizzazioni che vanno ottimizzate vanno io capisco che qualche d'uno dirà però non è che possiamo chiedere il sacrificio noi per mantenere questo stato delle cose non va bene per esempio abbiamo la vigilanza la vigilanza ha un costo a me spiace ha un costo che negli anni costava da 100 milioni è arrivato a un milione e tre abbiamo per esempio il costo degli alberghi io ho visto la federalberghi il signor Barnero che fa un comunicato delirante dove lui dice e si capisce che siamo già in campagna elettorale dice che gli scioperi fanno male al casino che bisogna lavorare tutti insieme ricorda il signor della federalberghi Barnero che durante l'EPT tanto celebrato sannato evento mediatico per la città riempie gli alberghi degli alberghi erano chiusi quindi si mette in pace con se stesse e dica cosa vuole se vuole fare politica torna si fa giudicare di nuovo e se è bravo lo rivotano se malesta all'opposizione semplicemente ma non venga a fare il supporto al regime non lo venga a fare il supporto non ce n'è bisogno o stanelli i commercianti dobbiamo dirlo che la federalberghi e i commercianti sono due delle categorie che hanno e questo lo dico pubblicamente non ho potuto essere smentito perché i dati sono questi 950.000 euro all'anno il costo della Casinoa SPA e sono riuscito ad avere questo dato dopo anni paga agli alberghi per l'ospitalità e 450.000 euro è il costo di 5 ristoranti per mandare a mangiare fuori i nostri clienti durante il giorno o la sera ecco allora vi dico due cose chiunque lo può fare l'esperimento va su Trivago o su booking.com digita il costo di una camera degli hotel convenzionati perché attenzione il Casinoa nasce per l'occupazione del benessere a tutte le attività imprenditoriali non solo a 5 beneficiari ok 5 alberghi su 20 che ce ne sono alberghi poi fra l'altro la qualità è anche faticente per certi versi perché se uno gira vede che sono cari e non offrono dei servizi minimi di standard qualità di tv europei non li offrono però dicevo 450 milioni 5 ristoranti che beneficiano gli altri ristoranti non beneficiano di nulla allora mi devono dire chi ha stipulato questi contratti queste convenzioni perché non va a vedere se su booking.com 50 euro un fine settimana alla stessa camera in quell'albergo e noi magari paghiamo 150 euro noi casinò che diamo continuità quindi ti occupiamo una camera tutti i giorni succede anche questo allora lì vogliamo intervenire perché il CDA non interviene in tal senso perché di me che hanno intervenuto in tal senso perché di ponzione è intervenuto in tal senso perché i nuovi di Dinamo Cambiasi Gian Caterino non dicono una parola su queste cose qua e così su 3 mila consulenze consulenze esterne un ufficio legale dove c'è l'avvocato Moreno ogni volta che c'è una cosa nomina un altro ma sono soldi tutte le volte queste cose qua cioè lo vogliamo dire che abbiamo assunto delle persone che guadagniamo 2 mila euro una volta adesso guadagnano 5 mila valore aggiunto zero o meglio meno 22% e cioè non è che può essere sempre il dipendente che la deve pagare gli ho detto vogliamo azzerare ricontrattare tutti questi contratti e stendere magari ad altri alberghiere ad altri ristoranti e poi mi chiedono un momento che c'è crisi ma perché andare a pagare fuori facciamoli mangiare dentro i nostri clienti perché qui il problema è tutto quello se fossimo capaci e fossimo governati da gente competente di gioco oppure di public relations che sono capaci a portare gente noi lo dimostra il fatto che ogni volta che c'è un evento il casino lavora se tu non fai gli eventi o fai degli eventi ridicoli lavora in maniera ridicola cioè che non porta risultato lo sa che con tutte queste cose si mette contro tante persone ma io non mi metto contro nessuno io devo rispondere davanti a Dio davanti alla legge e davanti alla mia famiglia e guardandomi davanti allo specchio io non ho offeso nessuno dico tutte cose comprovate perché come consigliere se dico che 950 mila a questi alberghi è quello è quello quindi non devo dire nient'altro io difendo in questo momento un bene primario della collettività che è il casino SPA che nasce per dare occupazione e dare benessere alla città se dico che ha prodotto 886 milioni di euro da 90 oggi e non c'è un palazzetto lo sport dico una cavolata o dico che è sempre colpa dei maledetti croupier ma lo dica lei dicevamo prima della difficoltà delle slot legate anche alle slot da bar ci può essere una soluzione la soluzione io l'ho prospettata e devo dire che sono stato anche fra virgolette minacciato di non fare certe cose poi io ripeto non ho paura perché tanto moriamo tutti o prima o dopo capita a tutti meglio dopo meglio dopo non lo so forse per i miei familiari ma sicuramente se uno muore da giovane rimane immortale no? ah sì a parte la battuta io ho trovato una soluzione che hanno fatto anche altri comuni soprattutto anche tra l'altro uno della Lega in Trentino dove per questione di ordine pubblico hanno chiuso l'orario cioè hanno regolamentato l'orario perché in Italia non si può bloccare la libertà di impresa ci mancherebbe quelli che sono in itiner hanno la concessione cosa bisogna fare? non bisogna fare quest'ora dice io chiudo però in pubblico la sera e regolamento solamente mattina pomeriggio questo questa apertura qua mattina pomeridiana ha prodotto che cosa? un impervimento della città e un non controllo perché ci gioca minorenni io alleno anche una scuola di calcio quindi so i ragazzi ci vanno a giocare non c'è controllo è illegale però non ci sono i mezzi per controllare allora io ho fatto una semplice domanda ma una cosa semplice con un'ordinanza del sindaco semplicemente dico io regolamento l'orario io blocco pomeriggio mattina lascio aperto la sera l'inverso l'inverso perché sono convinto visto che la tipologia del cliente che va a giocare in queste sale che è legittimo per carità ed è legittimo anche aprire queste sale slot è legittimo la legge te lo consente ma io posso regolamentarlo allora la tipologia di quel cliente che gioca è la mamma che porta la bambina a scuola al vizio va a giocare il vecchietto il pensionato che prende gioca la pensione lì il padroncino che finisce di lavorare le consegne va a giocare lì l'artigiano che beve gioca lì allora se io regolamento questo alcune famiglie magari mi ringraziano perché spendono meno soldi però se io poi scelgo di andare a giocare vado non vado per dire in un posto poco illuminato e frequentato da balordi ma vado a cercare la legalità che è il casino ecco questa è una soluzione non dico che da seguire anzi anche perché poi non la seguono però se ragioniamo se ragioniamo ad amministratori nell'interesse della collettività e di un'azienda che dà del lavoro a tutti allora secondo me bisogna adottare queste linee poi perché se sbaglio qualcuno me lo dica mettiamo le voti in democrazia regna appunto la democrazia l'espressione perché non è stato fatto questo perché i politici che sono lì da 15 anni non hanno bloccato le attività sono loro che non dare la risposta ai cittadini non la devono dare a me io me la sono già data la risposta ed è quello e formulo queste domande per cercare di dare un contributo io non sono qui per prendermi un vantaggio e per me far politica come funziona in Italia potevo stare zitto essere la condiscendente io non ho chiesto nulla forse uno siamo forse in pochi a non avere incarichi a destra manca in comune non ce li ho io non mi interessa vivo di mio fatemi vivere fatemi andare avanti fatemi pagare il mutuo non fatelo fatelo per le banche per le banche dei miei dipendenti che devono hanno un contratto la casa date in modo che ci sia sicurezza ricollochiamoci sul mercato facciamo qualcosa ma parliamo di gioco e c'è la possibilità del gioco al segno più in Italia al segno più è giusto cambiare andare incontro alle esigenze dei tempi ma bisogna innanzitutto circondarsi di massimi esperti se non ci sono gli esperti tutti noi quando abbiamo un'influenza andiamo dal dottore della mutua ma quando io devo fare un'operazione se ho i soldi cerco il massimo degli esperti se non ce l'ho vado a fare uno o due consulti sempre dagli specialisti non vado dal primo che trovo questa è la stessa cosa e lo pago tanto e lo pago tanto e su questo allora chiudiamo questo incontro un po' a tutto tondo con Massimiliano Moroni molti gli spunti che abbiamo lanciato quindi torneremo sicuramente a parlare perché è un argomento vitale per l'economia non solo di Sanremo ma un po' di tutto il comprensorio grazie a Massimiliano Moroni per essere stato con noi grazie a tutti voi per il cordiale ascolto grazie a tutti